ciao cari amici oggi registro questo filmato a favore di tutti ma soprattutto a favore delle persone più deboli degli anziani che hanno perso marito viceversa hanno perso moglie che vivono soli si trovano in difficoltà nell'affrontare le insidie nascoste di questo mondo dovremo affrontare tutti delle scelte importanti di vita quindi come primo consiglio vi dico iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella così tutti i filmati nuovi che escono li potete vedere subito entrate nel canale io ho creato una cartelletta con inseriti i filmati interi più importanti guardate di tutti ogni filmato sono argomenti diversi guardate di due tre quattro cinque volte per capire anche la situazione che stiamo vivendo diffondete di più possibile per il bene di tutti e fate lo stesso con questo filmato guardatelo tutto è come la trama di un film se guardate soltanto i primi dieci minuti vi assicuro che non capirete ciò che voglio comunicare se invece lo guardate tutto vi assicuro che una parte delle paure che vi stanno toccando in questo periodo passeranno i video che registro sono di un'importanza incalcolabile non parlo mai con la mia intelligenza perché sono un povero miserabile con la terza media e non vi darei sempre dei buoni consigli tutto quello che dico si basa sul messaggio che la madonna dà a vari veggenti sparsi in tutto il mondo le persone mi hanno scritto via mail e mi hanno chiesto come ci possiamo comportare cosa facciamo in questi tempi quindi mi hanno manifestato una certa preoccupazione se noi sappiamo cosa succederà quali sono gli ostacoli che dobbiamo affrontare si prepariamo in anticipo e non verremo colti alla sprovvista vediamo i messaggi Gaetano Marino apparizioni Calabria 2014 come in un film Gaetano Marino ha visto contemporaneamente forti temporali inondazioni venti fango ovunque bombardamenti campi dove i dottori portavano i feriti e i moribondi e poiché non potevano curarli per mancanza di medicine stavano fermi lì senza far nulla mentre morivano davanti ai loro occhi ha visto aerei che cadevano navi bombardate che affondavano gente che fuggiva mancanza di viveri e medicinali è già da tempo che vi dico convertitevi non sapete cosa vi aspetta inquinamento dell'aria, dell'acqua, delle piante, torture agli animali, eruzioni vulcaniche, sorprendenti grandinate, incendi di vasta portata tempo estremamente variabile, con caldo eccessivo e gelo rigido, con improvvisi uragani e nubi fragili, disastri umani, fame, carestie, malattie misteriose, rivoluzioni e guerre continue, attentati, stragi, persecuzioni religiose e politiche il male si abbatterà sulla terra sotto ogni aspetto la Madonna ha detto è già da tempo che ve lo dico il messaggio del presente ripete il messaggio di Fatima e la Salet le famose apparizioni adesso si sta compiendo tutto dovremo affrontare dei grossi problemi a scuola quando si risolve e si affronta un problema viene spiegata la causa e con dei dati messi a disposizione si cerca una soluzione quindi per trovare una soluzione dobbiamo sapere qual è la causa delle difficoltà che stiamo vivendo Zaro apparizioni Ischia Napoli 2014 la terra tremava e si squarciava le strade si aprivano gli alberi si abbattevano e il mare si agitava e si alzava fino a ricoprire intere città la mamma ha detto questi sono i peccati degli uomini non quello che vuole Dio Cavarzere apparizioni Venezia messaggio del 2020 anche nella chiesa anche nella chiesa molti dicono perché è successo perché Dio ha fatto succedere non l'ha fatto succedere Dio doveva venire perché sono i comportamenti umani che fanno succedere queste cose brutte in chiesa anch'io ho sentito delle persone parlare hanno detto perché Dio permette che succeda tutto questo ho sentito parlare anche più di un prete e cosa ha detto ma speriamo di uscire al più presto da questa situazione speriamo che Dio intervenga e tolga tutto la chiesa non tiene più in considerazioni le leggi di Dio Gesù aveva detto a Pietro chi di spada ferisce di spada perirà Carbonia apparizioni Sardegna 2016 la causa di peccato è terribile è un boomerang che torna indietro e colpisce senza pietà Valeria Copponi apparizioni Roma 2007 basta figli miei il male che state facendo vi ritornerà tutto indietro come un boomerang non andate oltre vi scongiuro tutto torna indietro con delle tempistiche e delle modalità che non comprendiamo però tutto torna indietro quindi per sorpassare al meglio gli eventi futuri cominciamo a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù dai da mangiare agli affamati dai da bere agli assetati vesti gli ignudi diffondiamo la verità una parte dei boomerang che vi si deve ritorcere contro verrà cancellata la Madonna ha detto tutto torna indietro quindi voi fate azioni positive e sarete aiutati però bisogna farle Giampilieri 2014 il sangue colerà lungo le strade a causa dei numerosi bambini uccisi a causa dell'aborto il padre piange tutte le sue lacrime a causa della morte di questi bambini figli miei anche la guerra è molto vicina milioni di aborti tutti gli anni arriveranno guerre e sangue sparso per le strade la Chiesa parlo degli uomini interni non tutti naturalmente non condannano più le opere del male di svariato tipo orge pedofilia la Chiesa ha ostacolato i messaggi di Maria e le persone non sono pronte ad affrontare i tempi che stanno arrivando per la Chiesa arriveranno tremende persecuzioni abbiamo utilizzato isole come depositi per materiali di scarto radioattivi abbiamo utilizzato oceani come discariche per le plastiche esperimenti nucleari la terra risponderà e arriveranno maremoti terremoti produciamo esportiamo armi che uccidono dilagnano migliaia di bambini innocenti e tutto torna indietro il fatto è che non conosciamo più le leggi della creazione e continuiamo ad accumulare ad accumulare ed è per questo che arriveranno delle catastrofi enormi catalina rivas bolivia 1996 gli uomini continuano ad accumulare iniquità e come risultato maggiori castighi per l'umanità l'umanità ha perso completamente il senso del bene e del male pensa che l'indifferenza sia normalità ho badato che molte persone che seguono anche i messaggi mariani le apparizioni ogni tanto dicono speriamo che tutto vada per il meglio tutti i sistemi e non va affatto bene per affrontare al meglio i tempi gli anni di tribolazione che devono arrivare dobbiamo uscire da qualsiasi dubbio ed entrare nella consapevolezza quindi impariamo a non sostituire i messaggi di Maria con le nostre convinzioni e le nostre emozioni Traveniano Romano Apparizioni Roma messaggio del 2018 non avete tanto tempo tutto ciò che è stato predetto accadrà questo è il tempo Carbonia 2017 peccato perché ancora si pone tante domande e disprezza il mio dire attraverso i miei mezzi nel mondo mia madre non è venuta a voi per dirvi cose inutili cose che mai accadranno vedrete tutto figlioli tutto 2010 dove vi volete nascondere ancora o figli l'Apocalisse fa parte delle scritture è l'ultima fase credeteci o figli perché questa è verità è una verità dettata dal vostro Dio creatore dal vostro Signore Gesù Cristo Giovanni non scrisse nulla di sé io fui causa di tutto quello che Giovanni scrisse eccoci in quel tempo come ho come ho detto prima le nostre buone opere le nostre preghiere alleviano gli eventi futuri però tutto deve succedere quindi concentratevi rileggetevi i messaggi mariani e non perdetevi in distrazioni state molto attenti tutto succede perché l'ha detto la madre celeste e perché è scritto nell'Apocalisse viviamo il tempo della seconda venuta di Gesù Luz de Maria Apparizioni Argentina 2013 miei amati non ce la farete se non accoglierete le mie chiamate e quelle di mia madre quanto da lei annunciato nelle sue apparizioni si compirà El Escorial Apparizioni Spagna messaggio del 1982 figlia mia fate attenzione ai miei messaggi voi vi salverete attraverso Maria figli miei i giornalisti onesti che combattono per la verità non potranno mai essere delle guide complete il loro lavoro è ottimo il loro lavoro è indispensabile importantissimo però il loro messaggio non è completo la Madonna è la nostra arca di salvezza il suo messaggio è semplice comprensibile a tutti però allo stesso tempo è completo i messaggi i messaggi figli miei si realizzeranno dal primo all'ultimo sempre El Escorial 1982 di con chiarezza con chiarezza a tutti che tutti questi messaggi che ho dato si realizzeranno dal primo all'ultimo e che l'ira di Dio Padre si riverserà sull'umanità sugli ipocriti i commedianti della mia chiesa e gli impuri l'umanità subirà vergate da parte della natura terremoti maremoti dalle persecuzioni dalle guerre dalla carestia dall'anticristo un uomo che avrà la sua sede a Roma si manifesterà come agnello poi sarà il carnefice dell'umanità dopo arriva la vergata più pesante l'ira di Dio ancora El Escorial 1983 Dio Padre sta per inviare due castighi molto grandi uno in forma di guerra rivoluzione e pericoli terroristici il verbo castigare deriva dal latino e nel suo significato originale significa correggere Dio permette che l'umanità si autofragelli con guerre e persecuzioni per fare in modo che si purifichi soffra e si corregga il secondo inviato dal cielo verrà sulla terra un'oscurità intensa che durerà tre giorni e tre notti durante i tre giorni di tenebre la luce artificiale sarà impossibile durante quei giorni di tenebre arderanno soltanto le candele benedette ordinerò ai miei angeli che vengano uccisi tutti i miei nemici l'umanità conoscerà la potenza dall'esercito di Cristo gli angeli distruggeranno stermineranno tutti i suoi nemici gli angeli durante la famosa nonna piaga hanno oscurato totalmente l'intero Egitto per tre giorni quando Gesù è morto in croce il cielo si è oscurato loro possono oscurare l'intero pianeta quando e come vogliono deviando il flusso dalle particelle solari Olivetto Citra apparizioni Salerno 2013 agosto Dio Padre Onnipotente sta inviando i suoi angeli a purificare la terra con grandi sofferenze Don Gobbi 1989 è scesa sul mondo l'ora della grande tribolazione perché gli angeli del Signore sono inviati con i loro i loro flaggelli a castigare la terra Carbonia 2017 Pioverà grandine dal cielo sulla terra si manifesteranno terremoti e maremoti il cielo si spegnerà dalle sue luci e il buio entrerà a regnare per tre giorni e tre notti San Paolo era stato arrestato con Sila ha cominciato a cantare inni e l'odio al Signore la terra ha cominciato a tremare le porte delle celle del carcere si sono aperte a Mosè si erano aperte le acque del mare si era tracciato un percorso e così è riuscito a scappare dagli egizi a Sodoma e Gomorra è caduto fuoco dal cielo gli angeli hanno il totale controllo dominio sulla luce la terra l'aria l'acqua il fuoco e durante i tre giorni di buio scateneranno i quattro elementi per purificare anche il pianeta però le persone penseranno ma con tutti questi terremoti che si scateneranno le centrali le testate nucleari esploderanno facendo a pezzi il pianeta ma non è così infatti come vi ho letto prima nel messaggio di El Escorial è scritto che la luce artificiale sarà impossibile gli angeli avranno assorbito ogni forma di energia artificiale e le armi saranno rese totalmente innocue giacarei apparizioni del Brasile 2016 le tenebre copriranno tutta la terra in quei tre giorni i demoni saranno liberati e porteranno nelle fiamme con loro tutti quelli che non hanno voluto ascoltare i miei avvertimenti carbonia 2016 la terra è per essi ravvolta dalle tenebre nella notte si sentiranno urla demoniache gli angeli delle tenebre saranno sguintagliati vagheranno desiderosi di carpire più anime possibili giobbe è scritto era un uomo lontano dal male aveva su bestiame capre pecore buoi aveva anche i suoi guardiani un giorno Dio parla con Satana e gli dice hai visto come bravo giobbe e Satana risponde sì tu prova a toccargli ciò che possiede e vedrai come ti rimarrà fedele allora Dio dice a Satana ok vai ti permetto di prendere ciò che è in suo potere però non toccare lui in un secondo tempo Dio poi gli permette di farlo ammalare ma non di ucciderlo e così succede il suo bestiame viene rubato i suoi guardiani vengono uccisi e Giobbe si ammala ma non muore padre Pio mentre stava dormendo una notte viene attaccato da Satana Satana si materializza prende sembianze fisiche gli salta addosso e lo picchia dopo gli appare l'angelo custode e padre Pio si arrabbia col suo angelo e gli dice ma perché gli hai permesso di picchiarmi e l'angelo risponde gliel'ho permesso per renderti umile sono gli angeli di Dio che gestiscono le legioni di Satana e durante i tre giorni di buio saranno tutti liberati fra David Lopez messaggio ricevuto a Meggiugorie in Bosnia 1987 durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all'inferno nemmeno un demone tutti saranno sulla terra in quei giorni quelli che non sono in stato di grazia moriranno di terrore a causa dei terribili demoni che vedranno giulia jahenni ventesimo secolo Francia verranno tre giorni di continue tenebre durante questi tre giorni i demoni appariranno in forma abominevole e faranno risuonare l'aria di spaventevoli bestemmie appariranno fisicamente proprio come è successo a padre Pio santa Faustina Kovasca madre speranza e uccideranno ammazzeranno Maria Graf Suter Svizzera messaggio del 1955 figlia mia io sono la misericordia infinita fino al momento in cui ritornerò come giudice giusto allora Dio interverrà come al tempo di Noè però invece del diluvio vi sarà una pioggia di fuoco e i demoni saranno gli esecutori dei castighi durante questi giorni di buio i demoni appariranno fisicamente ma come possono reggere fisicamente parlando per tre giorni se sul pianeta ci saranno terremoti maremoti e pioggia di fuoco Don Giuseppe Tomaselli esorcista erede spirituale di Padre Pio stava scrivendo dei libri sui suoi esorcismi Satana infuriato in una notte del 1963 si immaterializza lo attacca lo afferra con le mani e Don Tomaselli per difendersi fa per mordergli un braccio però con la bocca non stringe niente la bocca sente il vuoto totale ma allo stesso tempo lui sentiva le mani del demonio addosso e sentiva molto bene perché gli stavano provocando dolore gli angeli di Satana hanno il totale controllo e dominio sulle leggi della fisica venerabile Magdalene Porzat XIX secolo è la casa di Dio sulla terra che si purificherà e si preparerà per ricevere l'Emmanuel Gesù Cristo non può tornare in questo tugurio che è il mondo i tre giorni di buio saranno la fase finale di purificazione del pianeta a livello materiale e spirituale che permetterà a Gesù di tornare sulla terra Giampiglieri 2001 sono questi figli di Dio i superstiti che acclameranno mio figlio quando egli ritornerà dopo la purificazione finale ed è tutto scritto Gioele 3 il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore grande e terribile Gaetano Marino Calabria 2011 l'immenso dolore di questi ultimi tempi prepara la nascita di una nuova era in cui Gesù verrà nello splendore della gloria Salvatore Caputa Apparizioni Mantova 2002 sarà solo dopo questo nostro dolore che potrà nascere per tutti una nuova era di pace tante persone vedendo in continuazione guerre odio negatività persecuzioni violenza non vedranno una via di uscita e si suicideranno quindi è necessario far sapere che dopo questi anni di tribolazione arriverà una grande epoca di pace e questa è una certezza indiscutibile che ci dà la Madonna ma è anche tutto scritto Carbonia 2008 finalmente il mio ritorno segnerà l'era nuova 2010 non sarà più chiamata terra ma paradiso nuovo madre carolina venturella 1966 il mio regno di grazia di verità di giustizia e di santità si dilaterà ben presto su tutta la terra si compierà la famosa profezia del padre nostro venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra però è difficile pensare a un regno di pace quando il mondo dopo i tre giorni di buio sarà ribaltato massacrato pieno di cadaveri putrefazione e con la presenza delle legioni di satana San Bonico apparizioni Piacenza aprile 2015 stanno per arrivare i tre giorni di buio che vi ho promesso sono qua sopra di voi arriveranno e vi assicuro che il Signore vincerà Don Gobbi la mia vittoria si compie quando Satana con il suo potente esercito di tutti gli spiriti infernali verrà chiuso dentro il suo regno di tenebre e di morte da dove non potrà più uscire per nuocere al mondo come aveva detto San Paolo noi siamo corpo anima e spirito i demoni immettono nelle nostre anime delle emozioni le famose tentazioni lo spirito che siamo noi questo corpo lo utilizziamo solamente per manifestarci in questa dimensione lo spirito intelligenza elabora questa emozione produce un pensiero che si tramuta in azione negativa il famoso peccato i vizi i tradimenti le vendette violenza quando questi miliardi e miliardi di demoni saranno cacciati dal nostro pianeta non sentiremo più questa energia pesante negativa questa pressione psichica ed emotiva ed è anche per questo che entreremo nell'epoca di pace Valeria Copponi 2015 ricordate che mio figlio è il vincitore non ci saranno demoni che sopravvivranno alla sua grazia Gesù era portatore di spirito santo col quale guariva malati sordi cechi muti ma allo stesso tempo lo spirito santo che è lo spirito di grazia era motivo di disperazione per i demoni infatti i posseduti andavano da lui e gli dicevano cosa vuoi da me figlio di Dio lasciami in pace vai via di qui beata Anna Maria Taigi 1800 milioni periranno nei tre giorni di tenebre dopo aver purificato il mondo e la sua chiesa ed aver estirpato tutta la gramigna nostro signore opererà una rinascita miracolosa padre Pio 1959 i miei angeli si prenderanno cura spirituale di annientare tutti coloro che si burlano di me e che non crederanno alle mie profezie temporali tempeste tuoni e piogge ininterrotte terremoti come ho detto prima i quattro elementi copriranno la terra durante tre giorni nella terza notte cesseranno i terremoti ed il fuoco ed il giorno dopo il sole risplenderà di nuovo gli angeli scenderanno dal cielo e porteranno sulla terra lo spirito della pace i demoni quando prendono possesso di un corpo recano disturbi simili alle malattie e ai tumori le persone vanno dal dottore ma non trovano la cura si camuffano molto bene padre Amort aveva detto per identificare una persona posseduta bisogna riunirsi fare preghiere di guarigione che sono invocazioni dello spirito santo e la persona posseduta comincia ad urlare l'entità di basso livello demoniaca soffre si scotta brucia alla presenza del fuoco cristico dello spirito santo sarà proprio grazie a un'effusione costante perenne mondiale dello spirito santo che saranno esiliate tutte queste entità infernali demoniache entreremo in una nuova pentecoste mondiale giacarei 2017 farò brillare la mia luce mistica a illuminare tutto il mondo alla fine dei tre giorni di buio satana sarà accecato paralizzato gettato e incatenato tra le fiamme infernali e la mia luce mistica rinnoverà e purificherà tutte le cose monsignor ottavio michelini 1976 sarà l'avvento del regno mio sulla terra sarà il ritorno dello spirito santo per una nuova pentecoste sarà l'amore mio misericordioso a sconfiggere l'odio di satana sarà la luce a fugare le tenebre dell'inferno oliveto citra salerno 2007 la luce di dio interverrà per illuminare il mondo scacciando via le tenebre ed è anche tutto scritto in isaia 60 non più il sole sarà la tua luce quindi avremo un altro tipo di luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore ma il signore sarà la tua luce perenne ecco la luce di dio lo spirito santo il tuo dio sarà la tua gloria il tuo sole non tramonterà più la tua luna non si oscurerà più poiché il signore sarà la tua luce perenne gesù guariva i lebrosi una donna aveva chiazze sulla pelle con forti emorragie da 12 anni un giorno riesce a toccare il mantello di gesù mentre stava andando a casa di zairo e guarisce completamente alle nozze di cana trasforma sei brocche d'acqua in vino gesù poteva rigenerare e trasformare la materia la superficie del pianeta cambierà completamente matteo 19 quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni anguera apparizioni dal brasile 2007 dio trasformerà la terra e i giusti vivranno felici fiumi e laghi sorgeranno ci sarà ricchezza e abbondanza avremo fiumi nuovi laghi nuovi acqua trasparente non esisterà inquinamento non esisteranno sozzure materiali e spirituali di alcun tipo non dovremo più lavorare la vegetazione paradisiaca produrrà cibo in abbondanza cambierà tutto 2 pietro noi infatti secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia nuovi cieli e nuova terra anche proprio sotto un aspetto fisico carbonia 2016 la terra sta attraversando la sua gloria è nel suo parto doloroso ma presto sarà trasformata dalla luce e cambierà aspetto non solo la superficie ma tutto il globo terrestre si trasformerà e cambierà aspetto Sor Anna Lee Kenya Africa 1987 il padre di Dio mi ha indicato la terra e mi ha detto questa è la terra in parte malata molte nazioni spariranno spariranno dalla faccia della terra Giaccarei 2018 nella seconda Pentecoste lo spirito santo rimuverà dalla faccia della terra tutto ciò che è corrotto dal male vediamo questo video Pentecoste Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Carboni Grazie a tutti 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 su internet Grazie a tutti 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 E gli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 con gli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti